bella a tutti siamo qua di nuovo su rocket league sfide a trev contro tre stiamo aspettando l'ultimo player eccoci qua parte one egg dragon segnato di brutto ho sbagliato la traiettoria e di molto questo cosa fa ogni volta da lì la tocca appena siiii il vboss ha segnato 2 a 0 con la macchina tutta pimpata no merda l'ho mancata di di brutto no un capriola grande che sfiga nooo ero già pronto a esultare invece mi hanno fregato vai one egg vai one egg ma che cavolo ma che cavolo mi hanno buttato troppo in su colpa mia mi hanno buttato troppo in su colpa mia mi hanno buttato troppo in su colpa mia nooo l'ho mancata 2 a 1 2 a 1 2 a 1 vabbè lei io mi ho No! Dai, dai, in mezzo! Da là in mezzo! Da là in mezzo! Da là in mezzo! Cavoli! Però abbiamo vinto! E' un'antenna con il simbolo disconnetti. Ma sì, dai, mettiamola. Buono. Abbiamo vinto, sono arrivato come punteggio secondo. Ho fatto un gol, due tiri in porta. E vabbè, neanche una parata, l'altro ha fatto una parata, un gol. Due tiri in porta. Perché 4,40? Buono. Da. Buono. Grazie.